Sempre nel tema della non alternativa all'esistenza della spesa pubblica, la spesa pubblica non ha alternativa in economia, naturalmente parliamo di uno Stato a moneta sovrana, non parliamo più dell'euro, parlare di economia con l'euro è come parlare di vita alla morte, ripeto, parlare di economia con euro è come parlare di vita alla morte è un non senso, tornando alla moneta sovrana un altro motivo per cui la spesa pubblica è assolutamente indispensabile è qua e questa è una spiegazione molto facile e molto semplice, in economia ci sono tre cose, i beni e i servizi prodotti da un paese, beni e servizi prodotti, questi vengono venduti per creare i profitti, per creare i redditi con cui si vive, d'accordo? E poi ci sono altri due attori, c'è lo Stato che gioca una partita a carte col settore privato di cittadini e aziende, lo Stato può spendere, i cittadini e aziende possono spendere, però i cittadini possono fare un'altra cosa, che è un loro diritto, è un sacrosanto diritto, possono risparmiare, cioè decidere che non spendono il 100% di quello che guadagnano, i cittadini risparmino, ma se i cittadini non spendono il 100% di quello che guadagnano, che cosa succede? Una parte dei prodotti e dei servizi del paese rimane in venduta, non si vende. Allora, quando una parte di quello che l'Italia produce non viene venduta, questo equivale ad una quota identica di disoccupazione, perché non viene venduta, si smette di produrla, le aziende non incassano, licenziano, in economia la produzione di un paese in venduta è uguale a una quota identica di disoccupazione, però il settore privato ha il diritto di non spendere tutto il suo reddito e quindi di risparmiare e a quel punto se non vogliamo mantenere nel paese un livello di disoccupazione, l'unica alternativa possibile in economia, non ce ne sono altre, non ci sono le banche, non ci sono i soldi che piovono dal cielo degli investitori, non c'è niente, l'unica alternativa possibile è che sia lo Stato che a questo punto spende la sua moneta in questa partita carte col settore privato per comprare quella parte di produzione nazionale che il risparmio dei privati ha lasciato in venduta, lo Stato deve spendere più di quello che è tassa, questo è ovvio, perché se spende tanto quanto tassa non compra un accidente di niente, lo Stato spende, compra la parte in venduta di produzione nazionale lasciata, ripeto, in venduta dal risparmio dei cittadini e delle aziende e la disoccupazione viene riassorbita, altro motivo capitale, fondamentale, spiegato in due parole, molto semplice, per cui il ruolo della spesa pubblica è indispensabile e non ha alternative in economia.